silenzio finalmente impegnata a fare i regali sabato 30 novembre ore 15 con accura spisa su api web radio parleremo dell'idea il regalo e il loro risparmio Diego io faccio i regali e tu li distribuisci eh io li distribuisco sì va bene Diego eh le regole scarpitano api web radio porta il Natale dentro le vostre case no 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 no